Uno su mille, dopo lo strepitoso successo della prima edizione, con oltre 125.000 telespettatori settimanali, è risultato il talent show più visto in Calabria. Uno su mille ti aspetta con la seconda edizione, in collaborazione con Adesso Musica Italiana Milano, Premio Internazionale dell'Italianità, con il patrocinio di AFI, Associazione Funografici Italiani, Nuovo Maie, Nuovo Istituto per la tutela dei diritti degli artisti, interpreti e esecutori. La seconda edizione verrà trasmessa in tutta Europa, in collaborazione con Europa Channel, ed in Italia sulla rete di Business Channel e Tene Monte Carlo. I posti riservati ai partecipanti grazie. Grazie.